Ah! Ah! Cos'è? Oh! Cos'è stato? Uh! Benvenuti nelle storie del terrore thailandesi su Roblox! No! No! Sì! Non aspetta! Quelle fa paura di brutto! Sì! La Thailandia è un posto ricco di leggende folkloristiche e... E perché mi hai evitato Lion? Per farvi cagaradosso e stringere il buchetto di età! Oh! Siamo a diventarti qua! Venite forza ragazzi! Non succederà niente! Cioè abbiamo un sacco di creature mostruose raccontate! Non so quale di queste vi intriga di più! Ma io direi che ne guarderemo il più possibile! Questo qua è il Kagkai! L'ho già sentito nominare! No! Perché c'è una gamba sola! Questo è l'ogre! Vediamole tutte così possiamo decidere quello che ci piace di più! Ho paura! Questo è lo spirito mangiasporco! Madonna! È inquietante! Il bambino dorato! Questo magari fa meno paura eh! No! Il gin! No! 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 E il Takiyan! Questo sembra uno spirito dell'albero! E infine dietro ce ne altre due! Lo spirito malvagio! Vabbè generico! E il Tani! Il Tani è una bella signora! Forse quello non fa paura! Andiamo da lei! Per favore! Non voglio più andare! Basta! Non è bello! Partiamo da quello più buono! Eh! Lo spirito mangia sporco! No! Vabbè mangia lo sporco! Voglio dire non sarà mica cattivo! Non è che se uno mangia sporco! Andiamo dentro lo spirito mangia sporco! Ma perché? Ma dobbiamo proprio! Sei sicuro? Allora solo io sono abilitato a tenere la candela per illuminare il nostro percorso! Va bene? Perché? Perché così! E farò le voci delle persone! Sì sono il narratore! Allora! Oh! Questo è un signore vedi? È tristissimo! Ed è triste! È per forza! È perso nella foresta! Lui si chiama Franceschino! Franceschino povero! Eh lo so! Magari sopravvive Franceschino! Non penso! Ma siamo con lui e gli facciamo compagnia! No no no! Là io non ho paura io! Non è che c'è qualche jobs che... Forse sì! Inizia di sì! Ma cosa? No! Ma stai! Attenzione! Attenzione! Franceschino ha visto una luce in lontananza! È vero! C'è una luce verde laggiù! Magari qualcuno tipo uno! Vedi vedi una lucina! Vediamo! Franceschino! Oh no! È il fantasma! Che cavolo è quello! Non ci vuole mangiare sporco! Ragazzi è il mangiare sporco! Fantasma! Ma non fare... Franceschino è sporco! Porca! Oh! Vi faccio paura io se non vi spaventate col gioco! Ma perché è spuntato così? Non c'è sporco! Eh forse è proprio Francesco che non si lava! No! Come te! No! Eh può essere! Guarda quanto è brutto! Ma non gli è brutto! Ma non è bruttissima! Madonna è proprio brutto! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Ragazzi dovete farmi sapere se vi piacerebbe vedere altre di queste modalità! No! 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 Che schifo! Che schifo! Madonna ma sembrava... No! Ma che schifo! Ma si sta mangiando! Oh questo è il budello di Franceschino! Ah! Ah! Quindi il fantasma mangia sporco si mangia... Che schifo! Mangia lo sporco perché si mangia... Magari non è esattamente sporco ma tipo non lo so le persone cattive! No no si mangia lo sporco! Ma cosa lo sta facendo ancora? Che schifo! Ti fa tipo col piatto di pasta quando ti metti la pasta... È così! Ah! 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 Che a stregatto succeda la stessa cosa mentre vado in bosco! No ma ti prego! Ok! Che questa era? Bellina! Bella! No frutello no! Una meno! Una meno! Una meno! Allora secondo me una meno è questo! Il cag cagare! No no no! No ti prego no! No no dai bruttissimo! C'ha una gamba sola questa eh! E questo fa paura ancora di più! Ma pure il pancione! Il pancione perché... Perché dentro lei ha un mostro! Fino di stregatto! Ma ancora c'è un mostro di mostro! Perché non c'è un mostro di mostro? Andiamo andiamo andiamo! Ma perché vuoi entrare? Ah! Questo è sempre Franceschino di prima! Però questa volta si è portato il suo amico Giovanni! Allora Franceschino... È nella foresta! Sono stanco! Voglio dormire! Anch'io! Ottimo a vedere! Siamo qui a dormire e basta! Giovanni è bergamasco! Anche Giovanni! Andiamo a dormire nella bassa trevigiana! Scusate! Scusate! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Non si offendano gli amici bergamaschi eh! Oh! Adesso non c'è niente! A destra! Lì! C'è il cag... È il cag... Il cag cai! Si assomiglia a Fe! Ma come è? È vero! Mettiti a fianco! Che schifo! Ma è vero! Oh! Sei il figlio del cag cai! Abbiamo scoperto tuo padre! Ma è vero! Il padre di Fai non è andato a comprare il latte! È andato in Thailandia a fare il cag cai! Eh? Mamma mia! Che roba! Eh loro dormono! E dice il tipo che dorme! Eh! E cantano! Andremo piano piano fora dalla Val Sugana! Scusate! Scusate! Mi sono entrati i cantitirolesi in testa perché c'è un tiktok che li vedo sempre e allora mi sono entrati in testa! Mi sono svegliati! Ah! Che è sparito! Oh no! Dice... Mi sento male! Oh! Mi sento male! Ma ci sentiamo già oggi male qua! Oh! Dovresti dormire di più! Questi sono diventati i Flintstones! Vabbè! È uguale! Però! Cosa è successo? Il cag cai ha instillato in loro un sentimento di malessere! Capito? Guardandoli! Non è che gli ha fatto niente! Che fare! Ma quindi non li uccide? Speriamo che il stregatto vada nel bosco e gli succeda uguale! Minuto! Qualcuno mi ha bagnato le mutande! Ma ti sembra? Che non sono stato io! Avresti un paio di ricampi? Ma che schifo! No! Hai schifo! Quei decisivo! Reportalo ti prego! Ma che schifo! Ma che... Poi te le sarai bagnate tu le mutande! Piscione che non sia... Guarda si sono riaddormentati! Li ha fatti riaddormentare il cag cai! Anche qui te! Ma non ce n'è più cag cai! Eh eh eh! Andiamo avanti! È scomparso del nullo! Voglio pisciare! Eh questo è stregatto! Vedi che sei spaventato! Ma è vero! Devo andare a fare due goccine! E la vallo a fare nella valsugana! Andiamo poi! Vediamo cos'altro succede! Oh che cosa succede? Ha sentito un rumore del buio ragazzi! No no! Mi sei impegnato! No! Il rumore è nel buio! Non puoi metterti c'è anche tu! Oh! No! Franceschino! Ma cosa? Poverino! Poi sta succhiando il piede! Stiamo mangiando i piedi! No! Che cazzo! E lo sta mangiando tipo serpente! Parte dal basso! È il padre di Fè! Il padre di Fè! Ah ecco perché è così! E vedi che ha una gamba sola anche qui effettivamente! Bellissimo! Ha curato eh il kagkai! Quindi si mangia le persone! Vediamo vediamo poi! E vedi vedi l'altro Giovanni si è svegliato! E questo è mezzo morto! E anzi è morto forse proprio del tutto! E lui dice ehi! Ah perché lo ha interrotto! Mi sa che ha sgamato il kagkai! Ehi vedi il kagkai! Ah sta qua dietro! Il padre di Fè! E mi ha la pancia piena qua guarda! Sto schifando veramente! Che schifo! Che schifo! Si è ripienato! Ma non lo ci ha mangiato! Eh certo! Magari si è tipo mangiato l'anima di quello! Eh si è rinzato! O forse la gamba! Per renderlo con una gamba anche lui! Vediamo vediamo! No è morto! Ai porca miseria! Ma! Eh vabbè! Padre di Fè è proprio insaziabile un idrovole eh! Non sapevi te lo dico io! Andiamo fuori! Grazie per questa rivelazione! Eh so come hai ricevuto! Andiamo a vedere un'altra! L'ogre! L'ogre! L'ogre fa paura eh! Fa molta paura di queste storie! Oh dove state? Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Eccoci! Kagkai! Ma perché eravate rimasti dentro l'ogre? Ho paura! Ci voleva lasciare andare il kagkai! Ci voleva rapire! Siete deficienti! Sì! Stiamo a vedere! Vabbè! Andiamo dall'ogre adesso eh! Venite venite qui! L'ogre fa paura! C'è da l'ogre brutto! L'ogre si dice che sia la mamma di stregatto! No ma basta! Non la voglio vedere! Basta! Ho detto che non la voglio vedere! Perché ho paura di lei! Sai quante volte io ho detto che non ti voglio vedere a te! E comunque ti vedo lo stesso! Eh? Perché non lo siamo fuori scusa! Oh! Questa è la casa di mia madre! È stregatto questo qua! Vedi? È stregatto! Dice la casa di mia madre! Voglio incontrare tua madre! Che la sorella di stregatto! Sì io! La madre! Ciao! Ciao mamma! Oh se è l'ogre davvero la madre! È l'ogre! Non ci posso credere! È l'ogre davvero! Ve l'ho detto! Ve l'ho detto! La madre di stregatto è l'ogre! È un ogre! Perché lui infatti è un schifo! Guarda che brutta! Che è? Quanto è brutta! Guardala lì! Madonna stregatto! Ma sono la ripresa da lei! Guardala in faccia! Non dirò più stregatto! Che tua madre merita gli amanti! Perché è troppo bruttina! Secondo me! Ma come la metta? Anche quello! Già che ha avuto una disgrazia! Tu che sei? Mamma cosa stai facendo? Mamma cosa stai facendo? Che è stregatto sempre! Che parla così! Guarda! Vedi c'è la mamma che è girata di scatola adesso! Eh certo! Perché stregatto l'ha interrotta! Ma cosa sta cucinando? Sta a fare gli hamburger! Vedi? Muori! È un po' troppo grandi! No! Muori di che cosa? Ma sono troppo rossi! Perché stregatto ha fame molto! Perché è un porco! E allora... Eh sì! Lo mette così! Vogliamo una doppia porzione! Mi butta la roba in bocca! Tipo i maiali! Andiamo a vedere questo! Che schifo! Ah questa urla! Urla! Ah! Ah! Non ti ha ammazzato eh! Tua madre! Ma gli ha feccato un braccio nel petto! Sì! No! Perché a me! Perché fai schifo! Cavolo lo chiedi anche! E infatti sei morto! Hai visto? Finalmente! Mi ha preso il cuore! È il mio cuoricino! Eh tu m'ha preso il cuore! Povera me! La fine d'un bic... E se lo mangia! Che schifo! Perché è tutti così? Ma stregatto perché hai delle fette di salame dentro? Non lo so! Ne ho mangiate troppo e me li sta mangiando lei! Mi voleva un po'! Schifo! Anche qui guarda come si sugga tutto lo spaghetto! Bellissimo! Eh vabbè! Affamata! Andiamo avanti! Andiamo avanti! Poi si mangia anche lei? Eh no! Eh no! Si è mangiato e ha smesso! Ha detto basta! Mi fa schifo! Ma qui vedi? Si è nascosta nell'angolino! È spaventato dalla mamma di stregatto! Basta il suo fine! Vai via da me! Certo che poteva aiutarmi! No guarda! Sta correndo verso di lei! Urla questa sasona urla! No ma c'è pure lei! Comunque stregatto per essere sorella a te non poteva essere troppo intelligente! Eh effettivamente! Eh purtroppo è così! Eh sì! La famiglia è un po' così! Aspetta pochi minuti dopo eh c'è scritto! Eh! E che è questa? È morta! La coppata! Uh! Ma no! Non ci credo! Costre! Tua madre è stata ammazzata! Ha cambiato corpo! Ma come si permette questa? No non posso credere! È successo diversamente! Ha capito Anna che è l'unica che ha un cervello qua in mezzo! L'ogre si è ciulato il corpo della ragazza perché era più giovane! Capito? Ma che invidiosa schifosa! È tua madre! Ha dato vera mia madre vera! Cioè è questa è tua madre vera! Ah lei è più giovane! Ah non si può uscire avevate ragione voi! Però attenzione perché nonostante questa... Questa iniziale difficoltà! Possiamo dire che questa modalità merita sicuramente una donazione! Vedo un pulsante importante proprio dedicato a questo! No no! Stregato! Prendiamolo un po'! No perché devo partire io! 100 notebooks e diamoglieli dai! È bello! Va bene! Tanto andiamo un prossimo... Oh ma c'è una tipa! Poverina! Mi sembra si chiama Luna l'ho vista! Non so se è nostra fan oppure se è dentro per caso! Ma poverina sta andando a vedere le storie tailandesi dell'orrore da sola! Ma che fa da sola? Ma che coraggio! Andiamo a farmi compagni! Non so se ci noi! Andiamo andiamo! Eh l'ho vista è passata... No il golden baby no! I baby no! Golden baby! Golden baby! Chi è questo? È un ninja! Un ladro! Un ninja! Ah un ninja! Oh no! Oh no! C'è una statuina d'oro qua sopra di un baby! È un piccolo golden baby! Sì Tostre! Golden lady! Andiamo! Andiamo! Bellissimo eh questo golden baby comunque eh! Lo rubassi anch'io se potessi! E vende! Lo vendi a peso d'oro eh! Vedi che è un ladro questo che cerca di forzare le serrature! Che ninja! Era un ninja ladro! Un ninja ladro! Maledetti ninja ladri! Che lì! Un cubo di della bassa patana! Incredibile! Eccolo qua vedi vedi! Dice ah che cosa? Si è chiusa la finestra! Si è chiusa la panca! No! Si è chiusa la finestra! Si è chiusa la finestra! Ma si è anche spostato a questa! È perché il baby golden sta dicendo adesso ti... E' il bambino giallo quello bellissimo! E vedi vedi! E mo dice ah che cosa è successo? Eh sei rimasto chiuso dentro zi baldone! Secondo me è stato per morire! Secondo me pure! Il golden baby si è materializzato? Oh no! No è vero! Ma è un sumo piccolo! Ando combattendo! No lei non guarda bene cosa ha fatto! Gli ha tolto un o! La finestra! Oddio mio! No! Porca vacca! C'è l'occhio per terra! Ma il golden baby è aggressivissimo! Golden baby! Andiamo avanti! Dov'è il golden baby? Eh eh non lo vedi più perché... Perché sei mezzo ceccato poverino eh! È pronto il grifato lì! Eh sì eh! Ah non posso muovere gli ha rovesciato la credenza! Ma che cosa c'ha? Golden baby sei stupefacente! Il piccolo sumo! Eh! Che storia? Questa non mi sta piacendo molto eh! È un vandalo il golden baby! Che chiopo! È un vandalo il golden baby! È un vandalo il golden baby! Che chiopo! Eh madonna l'ha inchiodato a terra! No che cattivo! È un vandalo brutto! Golden baby! Ma non ti sai proprio trattenere eh! Sei proprio senza freni! Poteva essere stregato quel ninja! No non è vero! Non lo farebbe mai nessuno! Ah! No 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 no! Che schifo! Che schifo! Lo ha sfaccendato! No? Sì! Non posso più vedere! Poi gli facciamo con occhio! Fregatto! Non è possibile! Non è possibile! Fregatto abbiamo donato questi 100 robux! Sì l'ho fatto prima! Ma non è uscito da nessuna parte mi sa! Doniamone ancora! No ti prego! Ti prego! Cosa? Non ti piace? Non tantissimo donare! Ah donna! No vabbè! Altri 100 subito! Immediatamente strepo il controllo eh! Dono! Lion! Sì? C'è una storia che non abbiamo visto! Questa qui è un'altra storia! Questa qui? Questa di qua! Il maenac! No no! Sì! Lo facciamola! È sembra molto brutta! Vediamo 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 il maenac ragazzi! È dell'acqua! Allora qui cosa è successo? Non c'era stregatto? Che voleva... Stai donando! Io ho già donato! Non ti preoccupare! È importante donare! Siate generosi! Donagli un'altra 50! Via! Va bene! Merita molto! Nac! Ah Nac è questa! Ed era forse sua madre! Questo è stregatto! No è la moglie! La moglie! Stregatto non ha moglie! Lo odiano tutti! Comunque! Nac! Devo andare nei militari! Aspetta! Va bene! Non sto andando via da casa! Eh sì! Deve partire! Poverino! Quattro mesi dopo! Con la sua zavorra! Stregato la zavorra! Ah Nac! Non è vero! Sono tornato! È durato poco insomma! Ah che bello! Andiamo a casa! Ma chi è? Ma è... Oh! Ha fatto figlio! È nato un bambino! Lei era il città! Che meraviglia! Eh... Mi manchi tanto! Anche tu! Ma siete uno davanti all'altro! Ah! Ma è scaldato! I fulmini! I fulmini! Imperversano fuori! È ora di dormire! Oh! Andiamo a dormire! Ma sono deficienti! Ma che famiglia disfunzionale è questa? Ma... 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 Vabbè! Nac! Vado fuori! Ok! Ok! Ciao! Ciao Mac! Ah ma... Uno si chiama Nac! Questo è Mac! Invece! Vabbè! Che schifo eh! Ciao! Vuoi sapere? Nac è morta! Ma quando è successo? No! Cos'è? Ma come è passato? No! Nac è vivo! Infatti dice... Eh non è vero! L'abbiamo visto! È tornato che non è vero che lui è un mostro! Ma ci chiede di più solo! Non è vero! Lasciami solo! No! È davvero morto! Ma Nac è la femmina mi sa eh! Non è... È un mostro! Casa di Nac! Metto la candela! Questo è lui che torna a casa eh! Mac dove sei? È tutto scioccato! Eh qua è chiuso eh! No ti prego magari è un mostro! C'è una mela! Ah buone le mele! Sì! È strana sta cosa! È strana però! È strana le mele eh! Ah ah... Eh? Braccio! Braccio? È un braccio lunghissimo! Che prende la mela! È vero! Madonna Nac è diventato un allungabile! Devo trovare uno sciamano! Ma non penso sia una buona idea! Però vabbè! Presto! Si è presa la mela! Si è presa la mela! Presto! Alla sciaman caverna! Ma è troppo vincente sta roba! Di notte! Sta arrivando! Questo è lo sciamano! Ma cosa sta arrivando? Possiamo arrivare nel cerchio che noi! Guarda! Che prego! Madonna! Però neanche un jumpscare fino ad ora! È strana questa cosa! È meno male! Meno male che ci penso io! Non ci fucili! Perché se no è un casino! È senza jumpscare! Stregatto! Dona un po' di soldi! Beh! Devo davvero! Eh sì altri 50! Io guardo lo! Che è? Mac! Sta piangendo! Nac! Mac! Nac e Mac! Nac! Mac! No! È lo sciamano! È il bambino! È lo sciamano! Nac Mac! Mac Mac! Per favore vai a casa! Andiamo a casa! Guarda che la cosa! Sta cercando di convincerlo a tornare a casa per poterlo trucidare ragazzi! È la leggenda di Nac Mac! E lui piange! Eh certo! E lo sciamano resiste! Andiamo avanti! È forte lo sciamano? Sì! Sono spiacente! Oh guarda! Ah lo sta smaterializzando! Hai visto? Perché lo sciamano sta facendo il suo rituale! E vedi? Con le piscette! Quindi lo sciamano ha vinto! Che bello! Lo sciamano vince sempre! Non è detta l'ultima! Non è detta l'ultima! Eh guarda guarda sta svanendo! Ma sperisce anche il bambino! Eh! Sta svanendo anche il figliolo! E lui piange! Porca il figliolo! Il figliolo! Ma che sto esi! Adesso è nel vaso! Ah l'ha messa nel vaso! È cattivo! Cosa farai? Adesso! La buttata nel fiume! No! No! Eh vabbè però! Magari si rompe il vaso! L'ha buttata nel fiume! No! No! Dov'è la storia della tattina? La storia triste! Addio Nack! No! E quindi Nack era diventata un fantasma! Come unico potere aveva il braccio allungabile! Magari non voleva fare niente di male! Solo anche piangere queste storie! Eh! Hai visto? L'Italia! L'Italia! Cappuccetto rosso hai detto! Eh! Cappuccetto rosso! Con il formaggio marcio! Andiamo a vedere un'ultima! Cavolo! Tacchia! Il gin! Il gin! Il gin! No! No! Ti prego il gin! Andiamo! Guarda che braccio! Andiamo! Andiamo! Streg! Dona un altro cinquantino! Streg! Ho detto vorrei! Ho rubato da mamma! No! Stregatto! Stregatto pelato ha rubato da mamma! No! Dove hai preso i soldi? Eh! Li ha rubati da mamma! Non mi fare schifoso! È un ladro! Che cosa è? Dove? In alto! È una luna! È una luna piena! Uuuu! Ah! Non mi sento salta! Uuuu! No! No! Ma che schifo! Ma che brucio! Ma che è tutto veramente! No! Ma che è grosso! Madonna! Ma sopra c'hai due occhi! È lui infatti! È tutto così! È il gin! È stato enormissimo! E santo Dio! Ma è gigante! Oh! Ha schiacciato anche l'altro! No! Mamma mia! Ma quanto è grosso questo gin! Speriamo che schiacci anche Stregatto adesso! Ma è finita la storia! Che brutto! Era una cagata questa storia! Lui è cattivo puro! Eh! Ho capito! Però! Cioè! Non è successo molto! Perché ha rubato i soldi alla mamma! Ma questo di Ginia non si rubano i soldi alla mamma! Eh! Certo che non si rubano i soldi alla mamma! Però! Però! Però esce un gin e ti schiaccia! E se sei Stregatto ti schiaccia! Pure se non c'è il gin! No! Ma scusa! Come faccio a evitarlo allora? Speriamo che ti schiacciano in fretta! Sì! L'albero! L'albero! No! Guarda che qua in fondo non c'era... Non abbiamo visto la donna! Tani! No! No! Sì! Andiamo da Tani! Ma è si trovato! Oppure lo spirito cattivo! Non è perché pensate che è una donna bellina! Andiamo allo spirito cattivo ragazzi! Ma perché è un spirito cattivo? No! Mi piace camminare nella notte! Questo è sempre Stregatto che vive in una baita nel bosco di zanotte e lo ammazzano! Andiamo! Ma io vado ovunque scusa! Sì! Speriamo che vai ovunque ma ci resti! Vattene a casa la prossima volta! Che cosa è stato? Ma dove? Oh no! Stai di nuovo arrivato il Gin! No! No! Questo è un altro spirito! Magari mi schiaccia per davvero! Ma che è questo? Ma è lo sciamano di prima! Oh! Oh! Ma che sta a fare con il Gin! Ma lo spirito cattivo! Ma che è? C'è un pisello di legno! Ma cosa sta a fare? Ah! Ma che è lo spirito? È un demone! Ma che è un demone? È un palo volante! Non capisco! È un spirito cattivo! Oh! È demoniaco! Guarda gli occhi! Boh! Vabbè! Io sapevo che ai vampiri si infilava il paletto nel cuore! Non è qui! No! Oh! Con il suo palo di legno! Che cazzo! L'ha distrutto! Ma! Ma questa storia... Ah! Questa è una fine che il stregato comunque farebbe, eh! Secondo me! Impalato da un... Ma è il migliore fino adesso! Da Tarzan! Che! Non sta a bagnare! Pure! Anche lui! Sì, che schifo! Però ha lasciato il suo palo e i suoi scudi! Eh! Poi li riprende però, eh! Si infila il palo e riprende gli scudi e viaggia! Torna in giro per il mondo thailandese! Questa era bellissima! Bellina, bellina, bellina! Oh! Ce n'è un'altra di queste modalità thailandese! Fateci sapere se volete vedere un altro video dove andremo a scoprire altre storie thailandesi del terrore! Perché sono molto interessanti! E anche su GTA ho sentito nominare delle storie thailandesi! Quindi è molto interessante! Però Anna Pisciazza ancora un po'? Sì! Grazie ragazzi per aver assistito al video e Lion out! Ciao!